Muoversi. Infomobilità in Campania. Sul raccordo autostradale di Avellino, sino al 30 giugno, per lavori ridotti alla carreggiata, tra Solofra e Montoro Nord in direzione Fisciano. Sulla strada statale, 7 Appia, sino al 14 luglio, per lavori ridotti alla carreggiata in corrispondenza del cavalcavia Macchia dei Meruli, nel tratto compreso tra Salsa Erpina e Volturare Erpina in entrambe le direzioni. Sulla statale, 268 del Vesuvio, sino al 15 giugno, per lavori è chiuso il tratto tra Ottaviano Zona Industriale ed Ottaviano Centro in direzione Napoli. Sulla tangenziale di Salerno, sino al 23 giugno, è chiusa la rampa d'ingresso dello svincolo via Irno in direzione Fratte. Dalla redazione Muoversi, Valeria Baldanza. Grazie. 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 Grazie.